Ben trovato al pubblico di Blog Sicilia, nuovo appuntamento con Talk Sicilia, la trasmissione la conoscete, approfondiamo fatti di cui ci siamo occupati sul nostro giornale e cerchiamo di entrare nel merito di alcune vicende. Oggi parleremo di province, si parla ampiamente del fatto che le province sono pronte per rinascere in Sicilia, ma c'è chi non è d'accordo, chi propone una serie di problemi normativi, chi invece ne propone di altra natura. Il fatto oggettivo è che in questi anni di inesistenza o quasi formalmente delle province ci sono stati dei problemi assolutamente importanti proprio nel territorio provinciale, di questo parleremo con un ospite che ci ha venuto a trovare, ma intanto sigla. E allora parliamo di province, lo facciamo con il nostro gradito ospite che è Nicola Vernuccio, buonasera, grazie per essere qui con noi. Nicola Vernuccio è il direttore generale della città metropolitana di Palermo. La città metropolitana di Palermo, allora facciamo una brevissima sintesi per chi ci segue, con la riforma delle province, le province sono scomparse di fatto però sono rimasti sei liberi consorsi di comuni e tre città metropolitane in Sicilia. Le tre città metropolitane sono Palermo, Catania e Messina. I poteri in realtà, anche senza organismo politico, i poteri amministrativi, queste strutture li hanno sempre avuti, anche se abbiamo vissuto un periodo, un decennio praticamente, di abbandono dei servizi, così lo possiamo definire. Questa è la mia sintesi, intanto mi sbaglio Vernuccio. No, dico da un lato no, nel senso che però, diciamo, tutte le competenze delle città metropolitane e delle province, per dire come si denominavano prima, province regionali, sono sempre rimasti, per cui gli enti comunque si sono sempre dovuti occupare di tutte le funzioni che la legge 1986 dava alle province regionali, quindi intoria strada, le scuole superiori, l'ambiente, i servizi di area vasta, comunque la intentoria come funzione è rimasta, è stato depaporato enormemente, soprattutto su quanto riguarda sia le risorse finanziarie che le risorse umane, e quelle risorse umane è il problema principale che noi oggi ci troviamo ad affrontare e che stiamo risolvendo, infatti stiamo facendo un sacco di assunzioni, nuove assunzioni, fate conto che quando io nel 2008 ho finito di fare l'assessore alla provincia, che l'ho fatto durante la giunta Amosotto, dal 2001 al 2008, la provincia aveva 2000 dipendenti, io l'anno scorso, il primo gennaio del 2023, ne ho trovati 480, ora con tutta una sei assunzioni stiamo arrivando di nuovo quasi su 550 dipendenti, speriamo entro fine dell'anno di arrivare a 650-700 unità, che sono le risorse minime per poter fare attenzione a questo ente. E allora, hai detto, abbiamo già detto qualcosa, in buona sostanza, nonostante le province non siano ancora rinate, almeno questo è il progetto politico, quello di riportare le province anche a una rinascita da un punto di vista di organismi politici, con una elezione diretta, sulla quale poi magari affronteremo un po' la riforma che è in discussione, da un punto di vista chiaramente di chi gestisce, non dal punto di vista politico puro in questa fase, però il dato oggettivo è che anche senza una riforma, la città metropolitana di Palermo dimostra che comunque si può fare delle cose. No, io non voglio essere l'autoreferenziale, però sicuramente dall'elezione del professore Lagalla, che è il sindaco di Palermo, che in automatica diventa sindaco della città metropolitana, abbiamo iniziato un nuovo percorso, devo dire che già esiste un organismo politico, è la conferenza dei sindaci nella legge del Rio, per cui noi abbiamo un organismo che è quell'organismo che ci approva tutti i documenti contabili. E proprio da questa nuova sintesi e anche collaborazione continua che noi stiamo avendo fra la città metropolitana e tutti i sindaci del territorio, che poi sono gli attori veri di questo ente di Aravasta, stiamo portando avanti una serie di progetti. Quest'anno, ve lo dico, io sono sempre dell'idea, non per ritornare a frasi che forse in questo caso non sono proprio appropriate, ma sono le persone che comunque, le idee camminano sulle gambe delle persone, quindi se le persone portano avanti le idee e portano avanti un lavoro, le cose si realizzano. Quest'anno la città metropolitana, cioè l'anno passato, è passato a fare quasi 70 milioni di appalti fra le strade e le scuole. Per esempio sulle strade dove c'è veramente tantissimo da fare ed erano state abbandonate in uno stato di degrado veramente importante. E le strade provinciali, non per la città capoluogo, ma per le città dell'Interland del nostro territorio, quindi io penso sia a Corleonese, alla Valle della Torta dei Feudi, alle Madonie, sono le strade di connessione principale di queste comunità. Quindi vanno veramente mantenute e oggi penso che i territori se ne accorgono che finalmente c'è un ente che di nuovo è tornato a essere presente, le strade vengono asfaltate. Certo, dobbiamo fare tanto lavoro, ancora c'è veramente molto da fare, ma questo però è inurruinato il rapporto con le comunità locali. Io in continuazione vado in territorio provinciale a inaugurare nuove strade, inaugurare nuovi cantieri. Questa è la cosa più importante. Ecco, allora facciamo una breve sintesi. Qual è la situazione che ha trovato in un anno, perché circa un anno di lavoro il direttore generale della città metropolitana è insediato, qual è la situazione ad oggi? Quanto ci vorrà per riportare questa situazione a un livello, chiamiamolo così, di normalità? Allora, la situazione che purtroppo abbiamo trovato era una situazione veramente distasi, nel senso che al di là della carenza cronica di risorse umane, mentre paradossalmente eravamo pieni di risorse finanziarie, con la volontà di riniziare e rimotivando anche le persone, ripeto, dipendenti della provincia, che vanno comunque io, sono soggetti che ringrazio proprio perché grazie a loro riusciamo a portare avanti una serie di progetti, si è riusciti da un lato a rimettere in moto, come vi dicevo, gli interventi nelle strade provinciali, e incominciare, noi abbiamo fatto, ripeto, l'anno scorso sulle strade, abbiamo fatto quasi 35 milioni di gare d'appalto, abbiamo già definito ora una manutenzione straordinaria per 8 milioni in tutte le strade, e questo è stato possibile alla collaborazione da un lato dei sindaci, che sono le sentinelle, poi per un'intera rasta della città metropolitana, e del territorio e delle comunità locali, e da un lato dai nostri funzionari che sono messi veramente a lavorare. Abbiamo fatto un cambio generazionale molto importante della dirigenza, abbiamo, per motivi anche di età anagrafica, sono andati a casa 4 dirigenti, abbiamo cambiato 4 dirigenti nella città metropolitana, tutto questo porta un nuovo entusiasmo in questo ente, anche nell'ambito scolastico, con tutte le difficoltà, noi abbiamo un patrimonio scolastico enorme, perché sono quasi 172 edifici in tutto il territorio della provincia, che noi dobbiamo garantirne tutti gli aspetti patrimoniali, sono tutte le scuole medie superiori, con grandi problemi, però abbiamo quasi 50 milioni di interventi, col piano nazionale di intervista e resilienza, che stiamo portando avanti. Le gare sono state fatte, sono state giudicate, ci saranno i cantieri fra poco, con un problema di logistica che va organizzato, tutto questo, devo dire, sempre con un rapporto al territorio molto stretto. Il segreto è questo, non bisogna calare le politiche di sviluppo dall'auto, ma bisogna confrontarsi con i territori. Cioè l'ente era vasta, ha una grande valenza, proprio perché deve essere quell'ente che fa sintesi di tante particolarità, che il nostro territorio riesce a esprimere, perché noi abbiamo un territorio veramente favoloso, perché va dalle montagne al mare, noi da pieno battaglia, in tre quarti d'ora arriviamo a Cefalù, cioè mettiamo assieme due spettacoli che la natura ci ha donato, che pochissime in realtà nel nostro territorio nazionale riescono a avere. Quindi il segreto è proprio questo, cercare di fare sintesi delle differenze, fare sinergia e fare in modo che queste comunità riescono a proiettarsi con un prospettivo di sviluppo tutti assieme. Apriamo una brevissima parentesi, perché abbiamo accennato alle scuole, ai 172 edifici, e questo è uno degli aspetti per i quali ci sono anche degli edifici che sono nella città, nel capoluogo, che sono gestiti da quella ex provincia, città metropolitana. C'è stato qualche protesta per ritardi nei riscaldamenti, ad esempio? Sì, questo non lo possiamo negare. In alcuni casi ci sono state delle proteste che i ragazzi secondo me giustamente fanno quando non trovano gli ambienti riscaldati, partendo dal concetto che nessuno di noi ha qualche desiderio strano di lasciarli a freddo, questi ragazzi. Questo vorrei che sia chiarito, perché a volte sembra che qualcuno lo faccia apposta, né tantomeno la burocrazia ha voglia di lasciare le persone a freddo. Allora, in alcuni casi abbiamo avuto dei consumi anomali e su quello noi stiamo assolutamente verificando e diciamo noi, investigando perché non sarebbe ruolo nostro, ma capendo perché ci sono stati consumi enormi di carburante, perché in una scuola in particolare noi abbiamo avuto che si sono consumati 6 miliallitri di gasolio in 10 giorni e la cosa un pochettino ci lascia perplessi. In altri casi noi abbiamo impianti vetusti su cui stiamo intervenendo pesantemente per cambiarli. Abbiamo casi in cui abbiamo caldaie ancora a gasolio, vecchia che da gasolio, mentre oggi non si usano più, però là bisogna fare interventi infrastrutturali indifferenti. Su questo ci darà una mano e ci sono una mano tutti i progetti che noi abbiamo finanziati dal PNRR, al PNRR nazionale delle prese in resilienza. Questo ovviamente porta a dover spostare anche spesso le utenze, cioè le aule, quindi i ragazzi da una scuola a dei plessi provvisori nel tempo in cui noi riusciamo a rendere di nuovo agibili le scuole. È un progetto che di medio termine certamente non si può chiudere nell'arco di uno o due anni per ritornare a fare in modo che le città metropolitane e le province tornino ad essere diventi che erano servizi di livelli sufficienti. Ecco, io non voglio neanche dare aspettative di ottimizzare gli stessi, ma di arrivare alla sufficienza ci vorranno almeno 5-6 anni. Quindi un intero mandato è costante di più. Un intero mandato ci vuole perché, ripeto, per troppi anni si è rimasti fermi. Questi anni, diciamo, vanno recuperati. Però la cosa importante è che, soprattutto in questo momento, al di là dei cittadini, i sindaci si accorgono di avere di nuovo accanto un ente che li supporta. Ripeto, la città metropolitana, la provincia, è importantissima ai comuni, diciamo, delle aree più interne della provincia e anche di quelle costiere più piccolini. Nel senso che noi aiutiamo a essere ente d'area vasta a momento di aggregazione dell'eopolitica. Per esempio, su tutte le politiche di programmazione comunitaria, in questo momento, la città metropolitana sta facendo da coordinamento dei comuni stessi e non solo, dà massa critica, fa forza, dico, nei confronti anche, nei confronti del Ministero, nei confronti con la regione siciliana. Diventiamo l'elemento di supporto dei comuni più piccoli e anche per fare massa critica e essere, diciamo, un'interlocuzione più forte con i soggetti che poi danno i finanziamenti. E anche avere una coerenza complessiva dei progetti che si vanno a realizzare. Questa è veramente la cosa più importante. Sulla strategia noi siamo importantissimi. Ecco che arriviamo a uno che è un progetto che avete lanciato, che va proprio in questa direzione, che lo avete chiamato Facciamo Comunità. È un progetto nel quale, in buona sostanza, si invitano tutti ad essere promotori di tutto. Ho un sbaglio. Sì, no, questo progetto nasce proprio dall'idea che è rivolto soprattutto, ma anche alla Palermo Città potrebbe essere rivolta, soprattutto alle aree locali più piccole, ma è rivolto proprio a fare comunità, a recuperare il senso che all'interno di un comune di medie e piccole dimensioni ci può essere una ricongiunzione fra l'istituzione, l'autonomia locale e i cittadini. Quindi va a finanziare progetti che mette assieme delle associazioni cittadini e il comune stesso. Posso fare un esempio, quello che può essere un orto botanico, un orto condiviso, scusate, un orto condiviso, quello che può essere per esempio un ripristino di una piazza che è stata degradata e viene recuperata all'uso dei cittadini e con i cittadini che ne cureranno poi la gestione, quello che può essere anche un asilo nido. Noi abbiamo esempi in cui in molte città periferiche abbiamo bisogno che mancano i servizi essenziali per i genitori che vanno a lavorare e hanno i bambini. Molto spesso abbiamo però ancora delle fasce generazionali più adulte, io non li chiamo anziani, ma più adulti, che possono dare una mano e allora si può creare anche un asilo nido attraverso un'associazione che vede un patto generazionale fra figli e genitori per poter abbadare ai nipoti e allora il comune può mettere a disposizione un locale e noi finanziamo la creazione vera e propria dell'asilo nido. Dico, tanti sono gli esempi. L'esempio è quello di recuperare il senso di comunità in aree dove si sta disperdendo. Questo può avere anche un grosso senso anche nella città di Palermo, quindi in alcuni quartieri si possono fare progetti molto interessanti dove si cuore il senso di appartenenza, cioè che la cosa pubblica è qualcosa di tutte, tutti dobbiamo avere il dovere di preservarla, non il diritto di utilizzarla, soprattutto il dovere di preservarla. Diamo rapidamente qualche notizia di servizio. Chi può richiedere, chi può accedere, chi può richiedere questo intervento, chi può fare? Abbiamo due tipi di possibilità. La prima, ripeto, è riguarda ai progetti di micro rigenerazione urbana, quindi quello che vi dicevo, associazioni cittadini insieme ai comuni presentano un'istanza alla città metropolitana. Altra tipologia di canale di finanziamento sono le cosiddette cooperative di comunità, che sono delle nuove figure di cooperative create da poco con la legge regionale siciliana, ma anche in altre regioni esistono, e sono quelle cooperative che si prefiggono invece proprio il compito della gestione vera e propria di alcuni interventi all'interno del territorio, sopperendo all'assenza di alcune funzioni istruzionali. Vi faccio un esempio di cosa può essere una cooperativa di comunità molto interessante. Noi per esempio abbiamo pensato nelle territori soprattutto montane della provincia di Palermo molto spesso gli anziani non hanno facilità a poter raggiungere i posti di assistenza medica. Passiamo nel Corleonese, abbiamo un ospedale, abbiamo una petralia. Allora, potremmo ipotizzare che una cooperativa di giovani, di OSS, può fare un servizio di telemedicina a distanza, cioè ogni giorno potrebbe curare, e quindi noi lo finanziamo, gli anziani di una certa comunità andando nelle case di questi anziani e attraverso semplici apparati di telemedicina poter interfacciarsi con l'ospedale che però è a distanza di 30-40 km, che comunque con le nostre strade provinciali non sono 30-40 km immediatamente percorribili in tempi veloci, poter dare un'assistenza sanitaria agli anziani che invece stanno a casa nei propri paesi. Dico, questo è un esempio. Chiaro, quindi questi sono i due aspetti fondamentali per i quali si può accedere al progetto Facciamo Comunità, lo diciamo ai sindaci, alle associazioni, lo diciamo ai cittadini, c'è una opportunità della quale si può utilizzare. Sono 20.000 euro a fondo perduto in tutti e due casi. Ecco, quindi è comunque un aiuto per partire, che può essere comunque importante per la struttura, per il territorio, per le persone e così via dicendo. Ma adesso entriamo in un altro grande tema, l'altro grande tema è quello della riforma, perché è una cosa di cui si parla da anni e in particolare da un annetto circa, anche in Sicilia, si spinge verso la riforma. Attualmente è in discussione in Assemblea regionale un disegno di legge per la riforma, ma se dovesse uscire una riforma, a prescindere dalle polemiche, dal fattibile e non fattibile, eccetera, cosa cambierebbe realmente lungo questo percorso che si sta facendo? No, la cosa importante, se ci si dà la riforma, dico come hai ragione, caro direttore, lasciava ai costituzionalisti le analisi giuridico e costituzionali, ma il fatto di avere comunque di nuovo degli organi democraticamente eletti e quindi espressione diretta dei cittadini all'interno dell'ente è importante perché si dà una guida vera e prova politica all'attività dell'ente, un'attenzione anche maggiore da parte dell'ente alle istanze del territorio, perché ovviamente i consiglieri provinciali vengono eletti nelle varie aree territoriali e diventano i portatori degli interessi di quel territorio. Quindi da un lato la piena rilegittimazione di questi enti che è una cosa necessaria, dall'altro la possibilità di avere una guida politica di medio termine dedicata solo al territorio della provincia di Palermo per cinque anni che può portare avanti un proprio progetto di sviluppo e ripeto, questo veramente diventa importantissimo rispetto a tutte le nuove strumenti di programmazione e di pianificazione delle fonti comunitarie, sia nel caso del PNRR ma come nel caso dei fondi comunitari quelli famosi, Piofers, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e altri. Per cui la città metropolitana, quindi il territorio delle province, ormai a livello comunitario vengono individuate come gli enti intermedi più importanti nella gestione dei fondi perché hanno la visione di un bacionotenza allargato che deve essere diciamo coordinato come sviluppo. Cioè oggi, e devo dire questo non per dare, fare anche qua un riferimento autorreferenziale nei confronti del sindaco Lagalla però devo dire la verità l'impronta che ha dato il professore Lagalla come sindaco di Palermo è quella che Palermo finalmente comprende che non può pensare al proprio sviluppo se non pensa allo sviluppo dell'intero territorio provinciale. Cioè se no Palermo morirà di tutti i difetti che quotidianamente ha nella gestione quotidiana per esempio di un forte pendolarismo. Cioè Palermo è una città che ha 670.000 abitanti, quasi 700.000 ma ogni giorno viene raggiunto da più di un milione di persone e quindi nel complesso ovviamente compreso pure i palermitani. Questo significa che ha tanti di quei problemi che se non pensa che lo proprio sviluppo è collegato a quello dei comuni che stanno nell'interland che devono assorbire alcune funzioni. Cioè Palermo anzi deve esportare alcune funzioni all'esterno per avere una migliore mobilità e vivibilità della stessa città. Cioè questa visione nuova di una visione strategica dello sviluppo che convolge più comune e che deve essere armonica in più comuni diventa veramente importante per il futuro e per la scommessa che il nostro territorio ha anche nei confronti del resto dell'Europa. Facciamo per esempio nel turismo, caro direttore, non si può pensare al turismo di Palermo se non pensiamo al turismo di Cefalù. Non possiamo pensare al turismo di Palermo se non pensiamo come gestiamo i nostri trasporti. Quindi l'aeroporto e il porto. Tanto che noi stiamo facendo un progetto altro e poi mi taccio è un progetto che è quello del MAS che convolge diciamo la famosa creazione di un'app che permette al turismo olandese direttamente da Amsterdam a farsi tutti i biglietti per il suo percorso turistico dal biglietto aereo al biglietto dell'autobus al biglietto del treno in modo tale che chiunque sia già collegato nel suo percorso turistico che deve essere programmato prima di arrivare al nostro territorio. E questo è importante lo dico da turista che ama viaggiare esiste già in qualche territorio ma non è neanche così diffuso come sembrerebbe quindi questo sarebbe molto importante ma torniamo a parlare un attimo di province abbiamo fatto degli esempi Palermo ha il suo interland della sua mobilità verso Palermo e verso l'esterno però Palermo è la città metropolitana di Palermo anche territori che sono un po' scollegati dalla città cosa diversa avviene per esempio nella città metropolitana di Catania dove quasi tutto è concentrico verso Catania quindi ogni territorio deve vivere la sua reale situazione sì ma infatti come dicevo noi ormai dividiamo anche nell'ambito degli interventi tecnici che noi facciamo sulla via Britannia noi dividiamo quella che è l'area urbana il perimetro urbano che poi è l'area che piglia una semicirconferenza che va da Trabbia fra Misilmeri e Monreale e arriva fino a Terrasini da quelle invece che sono altre aree due aree costiere che abbiamo quella partenicense che va verso l'asse di Trapani e quella che da Terminese su Cefalua andiamo su Messina e poi abbiamo le due grandi aree interne che sono le Madonie che hanno una grande per fortuna loro diciamo hanno una grande diciamo identità devo dire anche importante sono anche ben organizzate e poi abbiamo il Collionese e la Valle Tortefeudi che sono quelle periferiche dell'asse che vanno verso diciamo Agrigento è importante che ovviamente queste aree soprattutto quelle interne quindi le Madonie da un lato il Valle Tortefeudi e Colonesa dall'altro per fare esempio ai nostri cittadini facciamo riferimento che ne so all'asse Castronome Sicilia Lercara Lercara Friddi poi Vicari Corleone Giuliana tutti questi comuni sono tutti comuni che hanno e devono avere un proprio progetto di sviluppo coeso che però dico faccia riferimento all'intero territorio provinciale e che non venga isolato perché sono questi comuni che oggi vivono di isolamento continuo e che si stanno preparando a livello diciamo urbano in maniera non indifferente anche se devo dire la verità con l'unico effetto positivo che possiamo dire forse ha portato alla pandemia perché ci ha fatto scoprire il lavoro agile e il lavoro da casa il lavoro agile da casa permette molto abilmente di rendere appetibili certi nostri territori per soggetti da tutto il mondo che vogliono venire a lavorare in ambienti che siano più a portata d'uomo più a misura d'uomo sia un punto di vista anche ambientale però c'è una cosa direttore che noi non possiamo pensare che una famiglia diciamo tedesca si trasferisca che le posso dire a Corleone o a Conte Centellina in uno dei qualsiasi nostri comuni meravigliosi o a Petraria Soprana tanto per dire uno che sono borghi favolosi come i Canci anche se non diamo dei servizi cioè questi centri devono poi essere nelle condizioni di trovare servizi a cittadini che sono cittadini europei cioè dobbiamo fare in modo che queste aree così belle tornano però a essere soggetti che possano regare servizi culturali servizi sportivi cioè per trasferire le famiglie e diventare appetibili noi come territorio dobbiamo essere in grado di creare dei servizi di rete importanti e su questo entra la città metropolitana perché il sindaco comune da solo da 1.500-2.000 abitanti non ha massa critica per realizzare questo tipo di servizi la città metropolitana invece che rappresenta un territorio di 1.300.000 abitanti ha gli strumenti e i mezzi per poter essere il soggetto protagonista che insieme ai comuni riesce a erogare questo tipo di servizi è rimasto un minuto per la chiusura di questa trasmissione le faccio una domanda soltanto diretta la prego di essere veloce nella risposta il prossimo progetto il più importante che pensate di mettere in campo da qui ai prossimi giorni settimane mesi i prossimi problemi sono sempre relativamente alle strade e quindi do dei numeri però ai cittadini della provincia se non bene mi riferisco e sarà completamente rendere totalmente fruibile l'SP39 che è quella l'asse che piglia diciamo le madonie il fare partire nel più breve tempo possibile diciamo i cantieri sull'SP37 che è l'asse famosa che passa a Belmonte Mezzagno ma non piglia Sommo Mezzagno ma piglia tutto l'Interland poi abbiamo noi l'altro progetto che riguarda l'SP4 che è invece il Corleoneese la Corleone Mare che da Corleone arrivi fino a Partinico e l'altro progetto importante è quello di cercare di studiare stiamo affidando noi a livello proprio di progettazione la possibilità di là di avere prima o poi la Petemontana come collegare tutte le assi viarie provinciali che stanno diciamo all'esterno del circuito di Palermo Città in modo tale da poter dare un'alternativa a tutti i nostri cittadini che da Villa Abate vogliono andare verso Trapani Bene grazie a Nicola Vernuccio per il tempo che ci ha dedicato grazie a voi che ci avete seguito speriamo di avervi dato delle notizie utili e naturalmente di tutto questo torneremo a parlare ancora grazie al prossimo Talk Sicilia a tutti i nostri cittadini